Allora Amato, questa è la situazione che ci troviamo, è tutto allagato, strada decisamente impercorribile, questa è l'acqua che defluisce perché comunque dall'altro lato ha un ostacolo e quindi diciamo che scende sotto al ponte, ok? Questa che vedi di fronte a te è la strada che porta all'acquedotto, non abbiamo transito e nessuna via per entrare e anche alla fine c'è tanta acqua quindi non penso neanche che con una semplice trovora riusciamo a scaricare tutta questa acqua, abbiamo circa 4-5 metri di profondità, vedi ci sono alberi sommersi ovunque, ok?